Per Chioggia Azzurra siamo con Edoardo Marconna alla sua mostra di alto rilievi, giusto? Ma a parte dell'opera nuova, volevo ritornare, ho visto l'esperienza molto positiva dell'anno scorso e quindi con molto piacere sono ritornato. E ho visto anche, ho riscontrato una partecipazione straordinaria, pubblica e critica, e quindi a me mi basta anche chiesto. Beh, l'afflusso di gente è notevole, ho visto tantissime persone in queste serate, poi che Chioggia è animata, molti curiosi, giustamente, ma è bello anche essere incuriositi da una forma d'arte un po' particolare come questa. Giusto, giusto. Sì, comunque sono molto soddisfatto. Sì, comunque sono molto soddisfatto. Sì, comunque sono molto soddisfatto.